Ciao a tutti, io sono Antonio Petronio e con me ho il primo organetto acquistato dalla famiglia Castagnari circa 30 anni fa. Sostenete il progetto di crowdfunding sul libro di Marco Madanà che racconta la storia di un'eccellenza tutta italiana. Ogni volta che suoniamo questi strumenti portiamo sempre con noi un pezzo di cuore della famiglia Castagnari. Castagnari 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 Contagnari Grazie a tutti